Buonasera, siamo qui a Plaisano, 17 febbraio 2019, nel studio di Ciccialoi, il grande cantautore che ho mai conosciuto. E Stefano da tutta la Calabria e io, niente con il nipote. Maestro, cosa registriamo adesso? Adesso registriamo una canzone che ha scritto mio zio negli anni. Che anno era? Eh, verso 40 anni fa. 40 anni fa. Una storia vera, una storia vera. Una storia vera. Allora, non lo so pronunciare bene. Partivano e poi? Partivano in cerca di fortuna, ma ai tempi partivano solo l'uomo della casa e della famiglia e lasciava qua moglie e figlie. E questa è la storia che ha scritto mio zio che è cantata e suonata con la guitarra, prendendo un valore ulteriore a quella che è e quella che è la storia di tante persone che partono da qua. Questa è la storia di Peppi Sbordipeppi. Ascoltate e avvicinatevi. La storia di Peppi Sbordipeppi che in America è partito lasciando in Italia figli, moglie e cinque figli. Ma Guglielmo, suo compare, sentite cosa gli ha fatto. Guglielmo brutto, mezzo d'assessino, mezzo di caro ognuno brutto un po' e la storia di Peppi Sbordipeppi si fida di questo suo compare Guglielmo dicendogli mia moglie è in alfabeta. Io parto in America e lascio molti debiti. Così, col mio lavoro, vi mando i soldi a voi e pensate a tutto. Ma giuratemi su San Giovanni che mi rispettate. Compari partiti già in filo, per vostra voglia non pensate niente. Pensate solo voi a lavorare e solo per mandare i dinari. E così, Peppi Sbordipeppi, raccomandando il suo amico Guglielmo, suo compare Guglielmo, venne l'ora della partenza. Peppino si saluta con tutti, amici, parenti e tristamente parte per l'America. Allora, Peppi Sbordipeppi, coraggio non ha via per camminare. Così, arrivato in America, per mezzo di amici, parenti e paesani, Peppino si trova un lavoro in una miniera, dove cazzo molto bene. Dopo circa un anno mi andava a comprare Guglielmo. settecentomila lire. Compari bello di sto cori, mi mando settecentomila lire, mi mando settecentomila lire, e quando Guglielmo riceve queste settecentomila lire, una grande gioia gli venne nel cuore. E poi ci dissi a sua moglie, Candite duro e ci bella via d'amore. Candite duro e ci bella via d'amore. A lui stasera andiamo a divertire. La moglie di Guglielmo gli dice Dove ce li hai questi denari per andare a divertirti? Risponde lui Non lo sai che ho ricevuto uno sciocco pagamento, soldi di Francavilla. Ma in quei giorni la moglie di Peppi andava da Guglielmo chiedendo notizie di suo marito. Guglielmo risponde che vostro marito ha ricevuto una brutta latizia, ma non aveva il coraggio di dirvelo. Vostro marito in America è morto. In una miniera di fuoco si è invettato. Premio edifico che io aveva una testa con il mani. Il Roberto si trovava tutti a milanio. Non lo vende, nel repito è più grande per lazykava. La casa va del tutto si vestigliò Pensando sui compari che combinavo La famiglia di Peppe e Sbordi Peppe Era costretta ad andare all'elemosi Pensando che suo padre era morto in America Mentre lui stava a lavorare E mandava ancora 300 mila lire E una lettera che diceva Che in Italia voleva tornare Ma quando compare Guglielmo Leggeva queste parole Diceva Adesso sono rovinato Compari Che venite a pari E li di la voglia E cinque creatori Venite l'amore E cinque creatori Tutta atterrata e liberita E quando Peppe e Sbordi Peppe in America Riceveva questa lettera Fu grande la pena e forte il dolore Dopo si avvenzao le capiglie lunga stai Le barbe di tu metro mio signore Pensando li sopiti a sua moglie Che non sapeva più Che non sapeva più Sapea le pade E così Peppe Teneva lutto in America E tutti gli amici che andavano a trovarlo Gli davano coraggio E conforto Peppino era ancora un bel giovane E si innamorò di lui Una bella donna americana E presto Passò al secondo matrimonio Allora Peppinuzzo si sposava Una bella signora americana Ci dissi bene al letto Quando Peppino va a letto Si toglie la camicia La moglie lo guarda E nel petto aveva appeso Figurine dei Santi E una lettera della moglie italiana La moglie americana gli domanda Cosa hai nel petto? E' un ricordo della prima moglie Che diceva Tu pari chi bella Vieni con mio peppino Ti dico un bello Che fa buon viaggio Ti dico un bello Che ritorni pesa E che ritorni presto Giura ancora La moglie americana Leggendo questa lettera Gli dice Beppino di sto cori Voglio vogliamo all'Italia visitare Perché lo sai Casi morricone E noi potevo puro camminare Si partono Per venire in Italia Quando arrivano Al principio del paese La bella giovanata La bella giovanata Ci incontrava Ci dissi Fermo amico Una preghiera Da io la devo Di l'istrata Quando la figlia Ferma suo padre E gli dice Signore Vedete come sono vestito a lutto Mi fate una lemosina Per opera del mio degno padre Peppi Buono Che Vede Vede Questa bambina Vede Suo padre Mi date una lemosina Per mio padre Peppe Buono di cuore Gli dà 2000 lire A sua figlia E si avvia da andare Ma il sangue stesso Costringe il padre A chiamarla E gli dice Fermo a giovanata Solo la cosa Dai a tu Vandare Tu fossi Pati Non dai Davide Sino Non ti lasciava Caminare La figlia Gli dice Lasciatemi andare Non mi disturbate Perché mio padre è morto in America In una miniera di fuoco Si impettava Risponde il padre E dimmi Come si chiamava Peppe Sbordi Peppi Quando Quando campava Allora Si vota La moglie America Ci dissi Dio Peppino Ti stuco Peppino E ti rende La moglie E in America Voglio Ritornarti Peppino Gli dice La moglie Già che tu Hai trovato La moglie E i figli Io ritorno In America Dio ti benedica e ti manda tanta felicità così si salutano con la moglie americana mentre lui si avvia con sua figlia verso casa ma quando sua moglie li vede arrivare gli dice bambina mamma mia sei impazzita chi è questo giovane in braccetto con te mamma non lo conosci questo è mio papà che è tornato dall'America sentendo così e casca per terra senza poter parlare ma quando è riuscito a parlare Peppi bello di sto cuore guarda che pici bello tuoi compari che da così di lui di sti rumori a noi mondi faccio in aria ma Peppino dà coraggio alla moglie adesso ci sono io e tutto si esisteva si rega da compare con gli elmi bus e gli dici sono un amico ma io non vi conosco chi siete come non mi conosci quando mandava i soldi mi conoscevi uomo brutale vile e senza cuore ora mi devo consumare in un milione che sogno vive e ti posso ammazzare mi dovi consumare in un milione che sogno vive e ti posso ammazzare Guglielmo si inginocchia davanti ai suoi piedi gli dice perdonatemi se potete che adesso vendo tutto e vi vengo a pagare e se mi uccidete cosa ci guadagnate in galera ve andate risponde Peppino io non mi aspetto presto io mi aspetto presto il mio denaro che è tutto sudato è tutto brutto del mio sudore ora vedi che tu ti amo i signori ma che sto mondo non c'è di pari da vincere di parente e di un pari signori la storia con io la canto per voi ciccialoi a lui Francesco la maestra la ringraziamo che abbiamo prodotto questo brano che è stato incisitato da tantissimi anni lei ha fatto l'impossibile con sull'ipoteca non è del mestiere come gli spettatori hanno potuto vuoto di vedere aveva difficoltà più che altro per l'emozione perché essendo con Gio vedendo quest'artista che è il sangue chiama sangue giustamente lui si è emozionato si è emozionato niente maestro veramente grazie di cuore di aver scelto me io sono onorato di poter che ho fatto questa registrazione c'è una bellissima calabrisella alla nostra spalla che quanto prima dovrà dire pure lei qualcosa e allora vorrei sapere una cosa papale papale come dice quell'attore Pugliese non ho capito in sostanza questo compare lei gli mandava i soldi vi faccio finire prima gli mandava i soldi questo addirittura oltre che si prendeva i soldi del suo diciamo lavoro lui andava a letto anche con sua moglie no 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 questo no allora ho capito non esiste meglio così va benissimo non esiste va benissimo no 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 ok allora ancora grazie e niente vuole dire qualcosa lei il signore invece dove vive a Salvatore Salvatore buonasera Salvatore ti ringraziamo tantissimo di aver partecipato a mio modo certamente stare vicino a Zio Ciccio non è facile è una cosa bella non sempre si è preparati si è molto spontanei quindi va bene Salvatore ti ringraziamo tantissimo ti auguriamo un buon rientro dove tu lavori che lavori per una grossa ditta senza dire il nome a livello nazionale buon viaggio e ci sarà la prossima volta faremo ancora altri brani dello Zio perché qua ce ne sta ci sono tante di quelle cose da poter ancora raccontare del maestro ok